1, vai, 100, sinistra 5, per destra 4, stai largo, diventa 3 meno allo specchio, diventa 3 meno allo specchio, per sinistra 5, per sinistra 5 ancora, sfiora a destra e subito sinistra 4 meno apre, 250 salta, stai centrale, e in fondo destra 5 meno, e subito sinistra 4, destra 5 meno e subito sinistra 4, per destra 5 meno e subito sinistra 4 apre. Per sinistra 5, per destra 5, 100, destra 4 più e subito sinistra 4 apre, 50, e stai destro per chicane, e attenzione subito destra 2 salta interno, destra 2 salta interno, per destra 5 piena, 100, al cassonetto in fondo, sinistra 4, e subito destra 2 gira e apre, subito destra 2 gira e apre. Per destra 5, e subito sul dosso sinistra 4 piena, sinistra 4 piena, per destra 5 lunga, e ai sergenti sinistra 3 diventa 2 gira e apre, sinistra 3 diventa 2 gira e apre. 50, destra 4 apre piena, 50 ancora, sinistra 4 pela, e stai sinistro ai sergenti, destra 2 gira e apre, destra 2 gira e apre. 100, e alla casa sinistra 2 apre, e subito sinistra 4, sinistra 2 apre, subito destra 4 apre. 50, destra 5 apre, per sinistra 5 lunga, e subito destra 3 apre piena, destra 3 apre piena, 100, e alla casa destra 3, per sinistra 4 meno apre. 100, sinistra 3 più, e subito destra 3 meno apre in due tempi, destra 3 meno apre in due tempi, alla casa sinistra 3 più apre piena, 200, e in fondo destra 5 meno apre e salta, salta. 100 che salta, e sinistra 4 meno, e subito sfiora a destra, e sfiora a sinistra, 100 addossati, e in fondo destra 5 meno apre, e subito destra 3 meno, sfiora a sinistra, e subito sinistra 4 apre, 100, 150 sporchi, sinistra 3 apre, e 100 sporchi salta, e al dosso, su, sfiora a destra sfiora a sinistra 100 salta, la baracca a destra 2 lunga 100 e attenzione, stai largo per inversione in destra 1 e subito a sinistra 3 meno apre 50 destra 5 e subito dopo il dosso, sinistra 3 e subito a destra 3 apre 150 rotti e al palo, su, sfiora a sinistra per sfiora a sinistra pieno, 50 per sinistra 5 e subito a destra 5 meno e subito a sinistra 4 per destra 5 piena apre 100 sfiora a sinistra e subito a destra 4 sinistra lunga e al paletto, sinistra 5 meno rotta e all'albero destra 4 meno apre all'albero destra 4 meno apre per destra 4 lunga per destra 4 lunga chiude il paletto per sinistra 2 che apre per destra 3 e subito a sinistra 3 50 che sale e al paletto sinistra 3 più e subito a destra 3 lunga e subito a destra 3 e subito a sinistra 2 apre 50 all'albero destra 5 e molta attenzione al cartello sinistra 4 meno sporca per destra 4 lunga sporca 20 e frena per inversione in destra 1 50 e all'albero sinistra 3 lunga in 2 tempi e subito a sfiora a sinistra per destra 4 apre per destra 5 chiude 4 lunga lunga chiude 4 lunga lunga per destra 5 corta apre 50 rotti sfiora a sinistra che salta 150 rotti sfiora a destra 4 e alla chiesa sinistra 2 apre sinistra 2 apre e subito a destra 2 sta interno e subito a sinistra 2 apre 50 occhio per destra 3 sporca e subito sfiora a sinistra 100 rotti per sinistra 4 chiude sporca e subito a destra 3 apre sporca 100 e in fondo sinistra 4 piena pela per sinistra 3 che apre per sfiora a sinistra che sale e 50 e 50 per destra 3 lunga sfiora a sinistra sfiora a sinistra per destra 4 piena per sinistra 5 e 6 largo molta attenzione in versione sinistra sporca 200 e in fondo sinistra 5 piena apre sinistra 5 piena apre per sinistra 5 che apre ancora e i cartelli rovesciati destra 4 apre piena 50 sinistra 5 che apre 100 sinistra 5 piena sinistra 5 piena apre e sfiora a destra che apre sfiora a sinistra e subito a destra 4 apre e subito sfiora a sinistra e subito a destra 5 lunga e subito a sinistra 5 poi 50 sinistra 3 meno e subito a destra 3 meno gira lunga sfiora a sinistra che apre 50 sinistra 3 più piena per sfiora a destra che apre e subito a destra 5 e subito sfiora a sinistra che apre 50 sinistra 4 più apre piena l'abbiamo beccata sì per sfiora a sinistra e molta attenzione subito a destra 2 apre 50 sinistra 4 meno e subito a destra 5 apre e tieni giù 100 sfiora a sinistra che apre 150 e in fondo a sinistra 4 meno e subito a destra 5 che apre e subito a destra 5 piena sfiora a sinistra che apre 120 e subito a destra out PhD